E verrà come il sole che sorge al mattino Volerà come il vento che vola lontano Canterà, canterà come canta un bambino Correrà come chi vuole dirti è vicino Il Signore è qui Carissimi, ben ritrovati al nostro appuntamento nella ricerca comune dello Spirito Santo che è l'amore tra il Padre e il Figlio molto interessante questa visione della Trinità che ogni tanto è bene rispolverare noi crediamo innanzitutto in Dio Padre C'è una vecchia abitudine nelle nostre comunità parrocchiali quando si recita il Credo di non fare attenzione alle parole che usiamo per rinnovare, riprofessare la nostra fede questo soprattutto la notte di Pasqua in un modo solenne ma anche proprio ogni domenica e proprio la prima frase del Credo ci aiuta un po' a entrare nella logica cristiana che è una logica di spiazzamento io sono solito dire cioè è una logica che non ci lascia sedere tranquilli in una cosa già sentita Credo in un solo Dio Padre è una frase che certamente suscita un po' di tensioni come un solo Dio Padre ma no, c'è anche il Figlio, lo Spirito però il Credo comincia così Credo in un solo Dio Padre innanzitutto proprio sbaragliando l'orizzonte da qualsiasi accusa di rigido monoteismo nei confronti del cristianesimo certamente il cristianesimo crede in un solo Dio e lo diciamo ma questo Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo e l'essere Padre è la prima connotazione la paternità di Dio è l'attributo iniziale dal quale nasce tutto perché? perché è il Creatore onnipotente anche questa è un'espressione un po' ambigua onnipotente in italiano ma oggi significa faccio quello che mi pare per molti a livello proprio colloquiale, volgare mentre in realtà onnipotente significa colui che tiene tutto nelle sue mani che mantiene il tutto nell'esistenza cioè colui che si prende cura di tutti onnipotente è colui che nel suo originale greco naturalmente perché appunto il credo nasce nel concilio di Nicea e di Costantinopoli con la lingua greca la traduzione ecco di questa parola greca che ci sta sotto alla parola onnipotente apre orizzonti di cura d'altronde Padre è colui che essendo creatore si prende cura di tutto perché l'ha chiamata all'esistenza in principio in principio questo dialogo tra il Padre e il Figlio è un dialogo che innesca la dinamica della creazione perché in Cristo dal Padre tutto è creato ecco allora che questo rapporto tra il Padre e il Figlio che appunto noi scopriamo soprattutto nel Vangelo nel Vangelo di Giovanni i discorsi dell'ultima cena di Gesù i discorsi in cui Gesù parla e invia in un modo definitivo i discepoli ad annunciare al mondo intero la salvezza viene chiarito e esplicitato proprio il ruolo dello Spirito Santo che dice Giovanni nella sua prima lettera è l'amore l'amore tra il Padre e il Figlio tanto che possiamo dire che Dio è amore così come Dio è salvatore secondo l'attributo della persona del Figlio come Dio è creatore secondo l'attributo della persona del Padre in Dio noi riconosciamo questi tre attributi che sono di fatto una novità dire che Dio è amore ci apre un orizzonte nuovo e penso che tutti noi nel nostro piccolo nella nostra esistenza quotidiana abbiamo bisogno dell'amore pensate a quanto è fondamentale per l'esistenza umana la relazione quando un essere umano nasce alla nascita bisogna affidarlo a qualcuno non è possibile che un essere umano cresca da solo pensate il tempo di accudimento dei piccoli nelle specie animali e su questa terra è brevissimo il tempo di accudimento dell'essere umano è 12, 15, 18 anni non so certamente per la cultura giuridica attuale una persona finché non ha 18 anni è ancora un piccolo pensate gli aquilotti che buttano scusate le aquile che buttano gli aquilotti dal nido per vedere se sa volare dopo poche settimane di nascita di fatto questo è una cosa che distingue l'essere umano il tempo della cura dell'accudimento e se vogliamo anche questa esperienza del bisogno di relazione che noi appunto identifichiamo nella categoria dell'amore degli affetti del volerci bene possiamo usare tanti sinonimi l'esperienza cristiana è l'esperienza di chi crede che Dio comprende bene il nostro bisogno di amore un bisogno di affetto di vicinanza di solidarietà di affinità che sentiamo oggi molto forte e anche fortemente esplicitato penso alla società la cultura delle generazioni che ci hanno preceduto nelle quali esprimere i propri sentimenti sembrava qualcosa di cattivo gusto proprio a volte la letteratura romantica era appunto relegata a certi ambiti marginali della cultura della vita sociale pensate anche il rapporto che vigeva non so agli inizi del novecento tra genitori e figli nella stessa famiglia un rapporto molto formale molto distaccato molto poco incline ad atteggiamenti appunto di cura di sobrio asciutto come per dire che era importante crescere in fretta e tutto sommato si arrivava a una indipendenza a volte anche economica fin dalla prima adolescenza cioè già il lavoro il lavoro anche dopo le prime esperienze di una scuola primaria certamente c'era questo orizzonte di emancipazione di crescita oggi siamo in un altro mondo è chiaro a volte l'emancipazione nasce dopo la laurea universitaria quindi a volte nelle prossimità anche dei 30 anni ma questo non è una anomalia rispetto all'essere umano perché di fatto tocca il bisogno che abbiamo di volerci bene di stare vicino di curare questa dimensione che è una dimensione importante radicale ma al tempo stesso anche piena di possibili deviazioni e ambiguità capita tutti i giorni di vedere situazioni anomale nell'aspetto della cura cioè persone che in teoria si vogliono bene ma poi in realtà si fanno del male o che fanno del male ad altri quanto spesso pensate nella cultura greca già prima del cristianesimo due verbi amare e morire erano messi insieme spesso come in relazione stretta soprattutto per gli effetti esiziali quindi che portavano alla morte dei vari personaggi delle tragedie greche proprio a causa di questa tensione che è il nostro sentirci amati e volere amare e stare in una relazione ecco dalla grecità ad oggi questo problema è un problema che certamente fa parte della della cultura del modo di essere di ogni esperienza di ogni periodo dell'umanità pensate anche al racconto che troviamo nel libro della Genesi riguardo alla prima coppia Adamo e Eva associati in un'esperienza che è l'esperienza del primo peccato il cosiddetto peccato originale certamente se la dinamica tra Adamo ed Eva è una dinamica che crea tensioni crea un conflitto anche con il Dio creatore ci aiuta a capire questo che l'argomento della relazione di coppia dell'amore della relazione anche affettiva è un argomento piuttosto complesso da affrontare ed è molto interessante che questo racconto della prima coppia venga ripreso proprio dal Vangelo di Giovanni nell'episodio delle nozze di Cana con un'accezione nuova con l'idea che è un'idea centrale dell'esperienza cristiana che Gesù è venuto a riscattare cioè a liberare un'immagine dello sposo che era fino ad allora piuttosto controversa e ambigua Gesù lo sposo inaugura un tempo nuovo nel quale la relazione d'amore di cura e di affetto appunto è quella dello Spirito Santo pensate anche solo a livello proprio di termini di parole quanto spesso nel linguaggio affettivo si usa l'espressione anima l'espressione corpo ecco Gesù in questo mondo degli affetti è venuto a portare la parola Spirito è una parola che è certamente nuova no? l'anima l'affinità dell'anima no? la dinamica dei corpi tutto questo che è il patrimonio dell'antica Grecia può essere esplicitato ancora oggi e quanto spesso nella nostra cultura si parla di di affetto di amore ma ecco l'ottica dello Spirito o meglio dello Spirito Santo prima di tutto e poi di quel dono dello Spirito che è la grazia in noi è una completa novità è un terreno sul quale come cristiani siamo chiamati a sfidarci a comprendere che cos'è questo dono dello Spirito che cosa significa amarci come il Padre e il Figlio si amano nello Spirito Santo questo tema è un tema che è stato affrontato da tanti teologi nella storia soprattutto nella storia moderna del cristianesimo perché oggettivamente non è così facile trovare un riscontro pratico nella vita quotidiana che ci aiuti a comprendere che cosa significa volerci bene tra i cristiani e questo è un è una considerazione centrale in tutto il Nuovo Testamento cos'è l'amore cristiano che differenza c'è tra l'amore cristiano e la storia dell'umanità che si vede attraversata da questa parola cosa vuol dire volersi bene di solito il mese di febbraio è un mese nel quale tanti parlano di questi concetti tanti parlano di questa idea e anche di questa esperienza spesso mi capita da sacerdote cattolico appunto che qualcuno mi dice ma come ma tu perché nella chiesa non è possibile che il sacerdozio sia compatibile con il matrimonio e cosa vuol dire vivere questa esperienza del celibato oppure della verginità nella vita consacrata che cosa significa per te amare cosa significa per un prete vivere un'esperienza che sia ricca affettivamente penso per esempio con la propria famiglia d'origine con i fratelli ecco il nuovo testamento lo dice chiaramente quando i pagani incontravano i cristiani si stupivano perché si amavano in un modo diverso l'amore dei cristiani era un amore che dice gli atti degli apostoli suscitava stupore un modo di essere che si è associata alla parola carità che noi tutti conosciamo e a volte usiamo anche in modi con sfumature anche molto diverse però ecco la radice greca la parola agape che sta appunto sotto la parola carità o amore è certamente un modo nuovo con cui i cristiani hanno mostrato il loro modo di essere appunto nel mondo in una tema che è quello del rapporto tra l'anima e il corpo che vede una nuova realtà lo spirito che cos'è? corpo o anima? tutte e due nessuno dei due certamente lo spirito viene contrapposto da San Paolo alla carne che però non è il corpo ecco a volte quando si sentono certe letture delle lettere di San Paolo qualcuno trae delle conclusioni sbagliate non è che lo spirito è contrario alla carne nel senso dell'umanità e quindi della corporeità se no come faceva Gesù a essere vero uomo lui che era Dio se lo spirito fosse incompatibile con la carne ma ecco la carne non nel senso appunto del corpo ma nelle lettere di San Paolo carne indica l'aspetto della corporeità nella sua dinamica di mancanza di bisogno e di fragilità ecco quindi di fatto lo spirito è incompatibile o meglio porta a compimento quello che invece nell'isolamento senza lo spirito diventa una carne che appunto come dice la parola si deteriora non riesce a conservarsi l'aspetto della fragilità appunto questa dinamica dell'umanità che a volte porta verso la morte verso la distruzione che cosa si mantiene nelle relazioni quando una persona muore cos'è l'amore di una persona e il bene fatto quando una persona appunto conclude la sua esistenza dove porta frutto come potrà germogliare come potrà dare una sua nuova vita e certamente queste sono tematiche che ci affascinano ma delle quali noi conosciamo una risposta forte nella vita di tutti i santi che continuano penso San Francesco penso ai santi anche nostri locali degli ultimi secoli ecco quante vite donate per amore che hanno prodotto semi d'amore e vite nuove e vite rinnovate proprio anche oltre il limite della carne oltre il limite della fragilità è come è possibile che una persona possa suscitare questo fiume d'amore a partire dai suoi gesti dal suo stile dal suo modo di essere ecco per noi cristiani è chiaro che la potenza dello spirito va oltre i limiti della carnalità va oltre i limiti della nostra corporeità fisica ma anche ecco lo spirito porta a compimento le dinamiche dell'anima se vogliamo le dinamiche psicologiche di ciascuno di noi quanto volte spesso capita di scoprire soprattutto quando accade questa cosa dolorosissima dei fallimenti di una vita di coppia e accade appunto che due sono a volte costretti anche dalle vicende della vita a prendere un tempo di allontanamento ecco proprio in quei momenti lì a volte un'analisi psicologica approfondita porta a scoprire tanti blocchi tante ferite e allora tanto che viene da chiedersi ma è possibile quindi amare o ci si fa del male ricordate l'ideologia greca che dicevamo tra eros e tanatos l'amore porta alla morte ecco il cristianesimo lo spirito santo ci aiuta a capire che invece anche l'aspetto dell'anima della nostra umanità psicologica ferita se vogliamo dal peccato come ci dice la scrittura può essere portata a compimento è possibile andare oltre anche i nostri limiti attraverso una dinamica che è la dinamica dello spirito santo che ci fa pensate perdonare come dice Gesù anche chi ci ha fatto del male che ci fa amare i nostri nemici capite che questo va oltre anche i limiti le capacità di una psiche a volte ecco a livello psicologico bisogna dire ma questo è impossibile però nulla è impossibile a Dio dice la scrittura ecco allora che capite è importante ricordarci come cristiani che dentro di noi ci sono queste tre dinamiche la dinamica psicologica dell'anima la dinamica fisica del corpo e la dinamica misteriosa dello spirito di Dio in noi della grazia che è l'unica che può portarci a compiere il bene sia che questa si serva appunto della nostra anima sia che si serva del nostro spirito in noi c'è un principio che è il principio dell'amore di Dio che è effuso in un modo teologale si dice con il battesimo ma che è proprio l'impronta del creatore su ogni creatura che ci spinge ad amare ad amare nella carità ad amare in un modo limpido ad amare come Dio Ave Maria splendore del mattino puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore protegga il nostro popolo in cammino la tenerezza la tenerezza del tuo vero amore puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore protegga il nostro popolo in cammino la tenerezza del tuo vero amore protegga il nostro popolo in cammino la tenerezza del tuo vero amore amore